Musica Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo parlando di sanità dopo il sì del Senato alla legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione che contiene tagli alla spesa sanitaria delle regioni. Siamo andati ad ascoltare l'assessore Silvio Paolucci che rassicura i cittadini abruzzesi. I tagli, dice, non avranno effetti negativi sulla qualità dell'assistenza sanitaria. Alfredo Primante È stata approvata la legge delega per quanto riguarda la pubblica amministrazione che contiene anche i famosi tagli alla sanità. Quali saranno i riflessi per la nostra regione? Ma intanto la regione per far fronte alla riduzione dell'aumento del fondo sanitario regionale quest'anno che costa di 44 milioni di euro per la regione Abruzzo, ha già messo in campo una serie di iniziative tutte regionali. In realtà alcune corrette leve che vengono individuate nel decreto enti territoriali che riguardano appunto le leggi del governo del Paese sono e saranno soprattutto a valere dal 2016. L'anno 2015 è quasi concluso dal punto di vista dell'esercizio economico e finanziario e quindi abbiamo fatto da noi. L'anno prossimo e nella conclusione del 2015 cominceremo ad avvalerci degli strumenti che vengono adottati da questo decreto. Cosa succederà in concreto per far capire i cittadini? Ma due intanto sono le leve che a mio avviso sono certamente quelle più visibili, comunicabili, percepite che sono assolutamente in vista, quella in relazione alla inappropriatezza e quindi ridurre l'inappropriatezza credo che dia più sanità o una migliore qualità del servizio erogato allo stesso tempo con meno costi e dall'altro lato la contrazione e la riduzione nella contrattualistica dei beni e servizi potendo rivedere al risparmio la stessa erogazione dei cosiddetti servizi, gli appalti, le forniture. Io credo che si vada verso una corretta direzione che soprattutto nel 2016 prorurrà un giusto risparmio non sulle spalle dei cittadini ma su un miglioramento dell'efficienza del servizio erogato e dall'altro nell'utilizzo migliore delle tasse dei contribuenti. L'ordine degli ingegneri della provincia di Chieti critica la scelta della regione di salvare la società Abruzzo Engineering a creare maggiore perplessità all'ordine professionale e l'inquadramento dei lavoratori da precari a dipendenti pubblici. Germana Dorazzi Una chiara violazione al diritto di tutti i professionisti di concorrere alle commesse pubbliche è uno degli aspetti denunciati dall'ordine degli ingegneri della provincia di Chieti in merito alla trasformazione di Abruzzo Engineering in società in house della regione Abruzzo. Continua così a far discutere il salvataggio dei circa 180 impiegati della società che si occupa di consulenze tecniche e tecnologiche aquilana rilevata con la legge regionale dello scorso 16 luglio proprio dalla regione Abruzzo. Ha di fatti trasformato il personale dipendente di una società partecipata in personale della pubblica amministrazione con ovvie conseguenze in termini di garanzia occupazionale evitando così però un'ampia e partecipata procedura concorsuale che avrebbe garantito la concorrenza necessaria alla base di ogni affidamento ed assunzione. L'ordine rimarca che le procedure di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura sono aperte alla libera concorrenza di tecnici attraverso l'uso dei bandi pubblici mentre le posizioni occupazionali di una società pubblica come Abruzzo Engineering è diventata non possono essere scelte attraverso procedure paritarie che premino invece il merito e la conoscenza. Gli ordini professionali degli ingegneri dell'Abruzzo sono preoccupati per il rischio si legge nella nota che il personale assunto con specializzazioni varie si ritrovi a gestire servizi professionali con competenze estranee mentre i tecnici esterni preparati restino a guardare la spartizione del poco lavoro intellettuale rimasto. Si ribadisce, dicono gli ingegneri della provincia di Chieti che tutti gli ordini professionali degli ingegneri d'Abruzzo saranno attenti e vigili affinché ogni azione, progettazione e servizio affidato ed eseguito dalla società in house Abruzzo Engineering avvenga secondo le effettive capacità tecniche professionali dei dipendenti evitando di produrre distorsioni al mercato. Il malumore e le proteste per la direttiva Volkestein da parte dei balneatori abruzzesi non si è mai sopito. In piena stagione estiva torna ad attualità la direttiva che mette a gara europea le concessioni appunto demaniali. Per tentare di attuare una proroga, Regioni Abruzzo e associazioni di categoria vogliono tentare la strada del doppio binario. Ascoltiamo. L'hanno chiamata alla strategia del doppio binario provare a concedere una proroga per i concessionari demaniali da un lato e dall'altro andare a gara di evidenza pubblica europea per le concessioni non occupate. Nonostante sia a pieno regime la stagione balneare tra i balneatori serpeggia la preoccupazione per la famosa direttiva Volkestein quella che prevede le gare europee per l'assegnazione delle concessioni demaniali. Una direttiva che va ad incidere soprattutto in Italia e soprattutto sugli stabilimenti balneari 700 in Abruzzo. Nell'incontro che c'è stato ieri all'Aquila tra le associazioni di categoria e la Regione Abruzzo si è tentato di trovare una via d'uscita nelle pieghe della direttiva individuando una possibile soluzione per l'appunto nella strategia del doppio binario che tenta di salvaguardare le imprese e le famiglie che hanno fatto investimenti sulle proprie attività ricettive. Era necessario incontrarsi per delineare una linea condivisa poiché c'è questa possibilità della sentenza della Corte di Giustizia che potrebbe arrivare da qui a poco su una base di ricorso del TAR Lombardia e TAR Sardegna in cui si rimette in discussione anche la proroga del 2015 e 2020 e se questo dovesse accadere il primo gennaio del 2016 i comuni saranno chiamati a fare queste evidenze pubbliche. Noi ridiamo con il doppio binario quindi dare un cronco numero che non è di mesi, sono di anni credo che questo sia un paletto molto importante che possa andare a favore della comunità dei balneatori che su forza dell'articolo 37 del codice di avvenigazione col diritto di insistenza, sei anni per sei anni hanno fatto degli investimenti ipotecando non lo stabilimento balneare che non si può ipotecare perché poggio su un bene maniare ma ipotecando le proprie case, non solo una ma anche due. Ed ora la cronaca, un uomo di 46 anni residente nel comune della Val di Sangro è stato arrestato oggi con l'accusa di violenza sessuale sulla figlia di appena 8 anni abusi protattersi secondo l'accusa del PM Rosaria Vecchi che ha chiesto la misura cautelare per oltre un anno fino alla scorsa primavera. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal GIP Massimo Canosa L'imputato, rinchiuso nella supercarcere di Lanciano era già stato condannato in passato per analoga violenza sessuale sul minore L'inchiesta è nata dopo che la bambina che manifestava forti disagi si è confidata a scuola con le insegnanti L'indagine è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Atessa Un esposto di Fratelli d'Italia diretto alla procura di Pescara mira a far luce sulla vicenda inquinamento del mare nel capoluogo adriatico Opposizioni all'attacco anche all'interno di Palazzo di Città con NCD che chiede chiarezza al sindaco Marco Alessandrini Il caso mare inquinato a Pescara finisce sul tavolo della procura all'interno di un esposto presentato dal portavoce provinciale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Armando Foschi L'obiettivo della denuncia è attivare ogni forma di tutela al fine di prevenire e reprimere comportamenti forieri di inquinamento che possano nuocere alla salute dei cittadini L'esposto, oltre che alla procura della Repubblica di Pescara è stato inviato per conoscenza anche al prefetto adriatico Vincenzo D'Antuono Intanto è montata la polemica politica a seguito della denuncia di alcuni cittadini che hanno riscontrato dermatiti e gastrointeriti dopo aver fatto il bagno nel mare pescarese e soprattutto dopo che lo scorso 28 luglio si è rotta una condotta fognaria in via Raiale costringendo l'ACA a immettere nel fiume 350 litri di Oxi Strong un acido disinfettante Ieri, al nostro microfono, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha provato a gettare acqua sul fuoco minimizzando quanto accaduto e tranquillizzando sulle analisi dell'arta tornate nella norma già il primo di agosto ma dall'opposizione continua a levarsi la voce di chi chiede chiarezza Guerino Testa, consigliere comunale del nuovo centrodestra vuole che il primo cittadino faccia luce sulle reali condizioni del mare pescarese Io ritengo che il sindaco in qualità di massima autorità sanitaria locale doveva, e siccome non ha fatto dovrà in tempi brevissimi uscire allo scoperto uscire dal suo mutismo imbarazzante che spesso lo contraddistingue in tante vicende locali che riguardano il comune di Pescara e dire come stanno le cose realmente se c'è un problema mare inquinato sì, mare inquinato no lui ha rapporti con l'Arta con l'ACA, con l'ASL e quindi dovrebbe dire la verità Oltre 10 ettari di bosco sono andati distrutti da un incendio divampato a San Vincenzo Valle Roveto provincia di L'Aquila nel tardo pomeriggio di ieri è spento dopo 15 ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco di Avezzano con l'ausilio di un elicottero dell'elinucleo di Pescara che hanno provveduto a effettuare lanci d'acqua con liquido ritardante rimangono attivi alcuni focolai e che vigili del fuoco forestale e volontari stanno tenendo sotto controllo ed ora cambiamo argomento la pista ciclabile della costa dei Trabocchi sarà presto realtà oltre 15 milioni di euro infatti sono in arrivo dall'Europa la provincia di Chieti ha annunciato la pubblicazione del bando è di 15 milioni e 271 mila euro di fondi Parfas 2007-2013 il bando europeo destinato alla realizzazione della pista ciclopedonale della via verde della costa dei Trabocchi circa 40 chilometri la lunghezza del tracciato sulla linea di smessa della ferrovia adriatica nel tratto compreso tra Ortona e Vasto Marina in un ambito territoriale a ridosso del mare di alta valenza ambientale e paesaggistica e da valorizzare in chiave turistica ad occuparsi dell'iter e la provincia di Chieti i comuni convolti in questo ambizioso progetto sono Ortona San Vito Chietino Rocca San Giovanni Fossa Cesia Torino di Sangro Casal Bordino e Vasto domani mattina nel corso di una conferenza stampa in programma presso la sede della provincia a Chieti saranno illustrati i dettagli e i passaggi tecnici del bando alla presenza tra gli altri del presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e degli assessori regionali al cicloturismo e all'ambiente Dino Pepe e Mario Mazzocca i tecnici della provincia che si occupano del progetto illustreranno tutti i passaggi tecnici legati all'attuazione del bando e condivideranno le sfide di un investimento che si sta concretizzando e che contribuisce in assoluto all'implementazione della mobilità sostenibile abruzzese dalla stipula del contratto chi si aggiudicherà l'appalto avrà 40 giorni per la redazione del progetto esecutivo poi per l'esecuzione dei lavori sono previsti 845 giorni che possono essere oggetto di riduzione fino al 30% scendendo così a 592 poco meno di due anni insomma il tutto entro il 2017 potrebbe essere approvato dalla regione ma rischia la bocciatura dell'avvocatura dello Stato il finanziamento all'istituzione della sinfonica abruzzese decine di orchestrali senza stipendio e troppe ombre sulla gestione dell'ente il capo dello Stato intanto scrive al presidente D'Alfonso invocando una soluzione della vicenda il servizio di Giorgio Alessandri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scende in campo a sostegno dell'istituzione sinfonica abruzzese il cui destino è appeso ad un filo ogni giorno più sottile a causa di taglia ai fondi da parte della regione dopo le selocitazioni del presidente Is Antonio Centi il capo dello Stato ha invocato un intervento del presidente Luciano D'Alfonso auspicando una rapida e positiva soluzione della vicenda lo ha fatto con una lettera ufficiale inviata dalla segreteria generale del Quirinale un sostegno per l'orchestra che domenica si è esibita probabilmente per l'ultima volta all'Aquila stipendi fermi da mesi ed una crisi di liquidità senza precedenti sembrano aver segnato il destino di una istituzione del panorama culturale abruzzese che da oltre 40 anni esporta il nome della regione in Italia e nel mondo i dipendenti dell'ente nei giorni scorsi hanno ricevuto il sostegno della città e della senatrice PD Stefania Pezzopane che ha apprezzato l'intervento del presidente Mattarella e ha invitato la regione a fare il suo non nascondendo neanche troppo veratamente qualche critica richiamando tutti al senso del dovere a partire dal presidente D'Alfonso se la regione dovesse rinunciare a sostenere la cultura ha commentato la senatrice penalizzerebbe l'Aquila e l'intero Abruzzo ma confido che il presidente D'Alfonso coadiuvato dal vicepresidente Rolli dal presidente del consiglio regionale di Bangrazio e dai consiglieri regionali Pietruccio e Di Nicola e gli altri siano consapevoli di quale sia la posta in gioco lunedì scorso è andata in scena a Teramo la protesta sotto il comune dei disabili contro i tagli alla sociale la giunta a Brucchi si dice pronta a rivedere la soglia di 14 mila euro e risponde alla protesta con una nota ascoltiamo il comune di Teramo risponde alla protesta andata in scena lunedì pomeriggio sotto la sede del municipio da parte dei diversamente abili sotto accusa i tagli governativi e regionali che hanno messo il comune nelle condizioni di rivedere i criteri di accesso ai servizi socioassistenziali la compartecipazione pubblica da 5 giorni a Teramo si misura sul tetto di reddito ISEE di 14 mila euro annui un limite troppo basso ritengono mamme e familiari di chi ha bisogno di assistenza quasi continua non è stato operato alcun taglio in termini economici ai servizi domiciliari per i disabili afferma in una nota il comune le domande di accesso ai servizi domiciliari pervenute sono state 82 di queste 44 sono gli utenti ai servizi 38 sono i rinunciatari o gli esclusi la lista di attesa è stata zerata in quanto i richiedenti che hanno i requisiti e che non hanno rinunciato sono stati ammessi tutti su 44 ammessi 25 sono esenti cioè più della metà a dimostrazione che c'è una larga fascia di utenza con reddito ISEE inferiore a 5 mila euro 19 utenti invece rientrano nel regime della compartecipazione con un contributo massimo che nel caso specifico è di 4 euro e 42 all'ora fra i 26 richiedenti che hanno rinunciato 11 avevano un reddito ISEE compreso fra 14 mila e 20 mila euro 12 avevano un ISEE compreso tra 20 mila e 47 mila euro e conclude la nota l'amministrazione è comunque pronta a rivedere la soglia ISEE di 14 mila per la prima pubblicazione di bando tale soglia non è stata modificata in quanto si sono voluti attendere e verificare gli effetti reali del nuovo calcolo ISEE applicato quest'anno per la prima volta a seguito della decisione impartita dal governo non condivisa dalla giunta Brucchi perché è evidente che essa peggiori le condizioni dei cittadini includendo nel calcolo voci dal peso sostanziale i prossimi mesi saranno importanti per comprendere gli effetti del nuovo calcolo ISEE e in base ad essi verranno prese le opportune decisioni intanto la protesta tornerà a Palazzo di Città il 27 agosto in consiglio comunale con la richiesta di modificare i termini della questione in nome della disabilità in nome della civiltà un piccolo segnale di ritorno alla normalità nel cuore della città dell'Aquila dove le ferite del terremoto sono ancora molto evidenti gli uffici del sindaco e quelli di rappresentanza del comune tornano a sei anni dal sisma in centro storico in un edificio appena restaurato il servizio un pezzo di normalità che si recupera un nuovo battito per un centro storico che ancora stenta a pulsare un anno fa l'annuncio in questi giorni è in corso il trasferimento il comune dell'Aquila torna in centro a Palazzo Fibioni ai quattro cantoni a trasferirsi da Villa Gioia quartiere generale post-sisma della casa comunale gli uffici del primo cittadino del vice sindaco della segreteria generale degli affari generali e dell'avvocatura oltre 4 milioni per il restato dell'immobile gestito da una fondazione che lo cederà in comodato gratuito per due anni e mezzo ma l'accordo per l'utilizzo degli oltre 2.500 metri quadrati di spazio potrebbe essere prorogato se i tempi per il ripristino di Palazzo Margherita si allungheranno i lavori dello storico edificio stede del comune prima del terremoto potrebbero partire entro quest'anno e dovrebbero durare proprio un paio d'anni tornano dunque in centro storico le sedi di rappresentanza mentre il consiglio comunale rimarrà a Villa Gioia inoltre in corso la ricerca di un altro stabile dove riunire tutti gli altri uffici comunali sparsi a macchia di lopardo sul territorio cittadino che pesano sulle casse comunali per diverse centinaia di miliardi di euro ogni anno una frammentazione che l'amministrazione intende abbattere per risparmiare e facilitare la vita a cittadino utente aquilano ed ora la pagina degli appuntamenti dalla 6 al 9 agosto a Leofara di Valle Castellana torna la notte delle paure in scena quest'anno Alice nel Paese delle Meraviglie torna a Leofara la notte delle paure e torna la suggestiva esperienza di teatro spettacolo nel cuore dei Monti della Laga dal 6 al 9 agosto con la regia di Gianluca Bondi psicoterapeuta bioenergetico che utilizza il teatro come mezzo di espressione e terapia in scena lo spettacolo Alice nel Paese delle Meraviglie valorizzare un testo che ha 150 anni adesso dalla pubblicazione e ci andava di celebrarlo in questo modo in mezzo al bosco dove lei va dove Alice va dove va a conoscersi a vedere se stessa sempre però in modo meraviglia con la meraviglia cioè con la curiosità si va a conoscere con un approccio diciamo resiliente di risorsa ci leva con uno sguardo bambino ma anche curioso appunto di sorpresa questo spettacolo nasce per l'appunto da un seminario che dura 10 giorni abbiamo circa 33 componenti tra musicisti attori sia semiprofessionisti che amatoriali lo spettacolo è per lo più dopo il percorso di trekking lo spettacolo è dislocato in diverse stazioni all'interno del bosco oppure dei sentieri la notte dei paure fa parte di un ricco diciamo programma di manifestazioni del comune di Valle Castellana noi iniziamo adesso con questa manifestazione seguiranno anche delle manifestazioni enogastronomiche durante l'estate per poi concludere tutto il percorso con le note che voi conoscete feste delle castagne che noi facciamo per la Castellana il teatro si svolge in siti inisuali per il teatro perché sono posti abbandonati paesi completamente spopolati case di pietre di roccati immerse tra vegetazione e greggi noi vogliamo a tutti i costi far conoscere questi posti al resto del pubblico perché sono paesi favolosi incorniciati dai monti della laga e vogliamo oltretutto mantenere attiva la tradizione culturale e sociale di questi popoli dal 6 all'8 agosto invece torna a Colledara nella frazione di Ornano Grande la seconda tappa del tour festival del Saltarello 2015 dal 6 all'8 agosto a Proda a Colledara nella frazione di Ornano Grande la seconda tappa del tour festival del Saltarello 2015 con convegni concerti stage di danza gastronomia e selezioni del folk contest etnie musicali siamo molto felici come amministrazione soprattutto per questo festival organizzato dalla Prologo di Ornano che riteniamo un evento molto importante dopo il grande successo di pubblico registrato in occasione della prima tappa di Controguerra il tour dedicato a danze e musiche della tradizione polare abruzzese a Proda nella piazza della frazione di Ornano alle pendici del Gran Sasso nella sera del 6 agosto ci saranno si stracchia piazza nella banda brigante ad ospitare la serata invece la sera del 7 ci sarà l'antivistica una danza del laccio d'amore e in più ci saranno il trio 99 il giorno dell'8 agosto invece avremo l'occasione di ospitare il Pasquale Abusivo che è una tributa di Bente di Manuciao e in serata come ospiti di eccezione ci sono in un senso che appunto hanno registrato l'ultimo singolo Io vengo dal sud che ha riscosso molto successo il folk contest è una gara è un contest come adesso va molto di moda legata però alla parte musicale quindi sono invitati tutti i gruppi folk di qualsiasi genere etnico world popolare a presentare il loro repertorio le chiediamo ad ogni singolo gruppo di poter rielaborare rivisitare una parte del saltarello in modo tale che il folk contest diventa ricco interessante per quello che riguarda la contaminazione l'incrocio fra varie interpretazioni in modo tale che il saltarello trovi sempre nuova linfa e nuova vita per le prossime generazioni 3.000 euro saranno le borse di studio che saranno date ai vincitori il primo premio 1.800 euro il secondo 800 euro terzo premio 400 euro poi ci sono dei premi speciali che sono il premio fanciullora pacchietta che consiste in un organetto in dubot da circa 800 euro valore commerciale e l'altro premio speciale invece è offerto dalla Paolo Soprani una fisarmonica folk 72 bassi dal valore di 5.000 euro ed ora passiamo alla pagina sportiva 10 avvisi di garanzia sono stati emessi dalla procura di Catanzaro per l'ultimo filone dell'inchiesta sul calcio scommesse Dirti Soccer 5 le partite nel milino tra gli indagati compare ancora una volta l'ex dirigente Aquilano Ercole Di Nicola che secondo l'accusa avrebbe provato ad alterare le gare l'Aquila Grosseto e tutto cuoio Gubbio Andrea Costantini non si arresta non si arresta il flusso di partite finite sotto la lente di ingrandimento della magistratura l'inchiesta sul calcio scommesse Dirti Soccer si arricchisce di un nuovo capitolo di 10 avvisi di garanzia e di nuove partite anche se determinati protagonisti delle vicende sono gli stessi 5 gli incontri che secondo i magistrati della procura di Catanzaro sarebbero stati alterati c'è l'ennesima partita dell'Aquila quella del 2 maggio penultima giornata giocata e persa Alfattori col Grosseto per 0 a 1 c'è anche una partita dell'Ascoli quella vinta a Sant'Arcangelo per 2 a 1 alla terz'ultima giornata lo scorso 25 aprile anche se nessun tesserato o dirigente del picchio è invischiato e le eventuali responsabilità vanno ricercate in tesserati della squadra emiliana già fortemente toccata dalla prima tranche di Dirti Soccer per il coinvolgimento del magazziniere Daniele Ciardi e dei giocatori Guidone Obeng Ridolfi e Traore stavolta essere indagato per questa partita è l'attaccante Vito Falconieri che peraltro in extremis non giocò quella gara per un problema muscolare curiosamente anche la partita d'andata anch'essa vinta dall'Ascoli era finita nel primo fascicolo dell'inchiesta le altre tre partite sono Tutto Cuoio Gubbio del 29 marzo Gubbio Sant'Arcangelo del 19 aprile Juve Stabia Vigor Lamezia del 3 maggio gli indagati sono l'ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Ercole Di Nicola il responsabile marketing della Vigor Lamezia Felice Bellini e il suo uomo di fiducia Sebastiano Laferla Raffaele Pietanza uomo di fiducia del dirigente della Propatria Massimiliano Carluccio uomo invischiato nella prima tranche della maxinchiesta l'ex collaboratore tecnico del Savona Massimiliano Solidoro il dirigente della Propatria Mauro Ulizio l'agente FIFA Andrea Bagnoli Tania Giorgevic persona di fiducia del finanziatore di scommesse Urosh Mirosaljevic altra figura di spicco della tranche madre e il portiere del Sant'Arcangelo Michele Nardi oltre al compagno di squadra Falconieri gli indagati devono tutti rispondere di frode sportive in competizioni oggetto di scommesse e concorso pronostici in pratica gli indagati si sono attivati per alterare l'andamento delle partite per poi trarre profitto dalle scommesse in particolare in questo filone l'ex dirigente aquiliano Di Nicola avrebbe avuto una parte attiva nell'alterazione di tutto cuoio gubbio con l'intermediazione del procuratore Eugenio Ascari già indagato nella prima tranche e il sostegno di Andrea Bagnoli in merito all'Aquila Grosseto lo stesso Di Nicola avrebbe poi proposto ad un dirigente della squadra toscana di combinare la partita ai fini di un pareggio con questo ultimo gruppo di partite si chiude la fase dell'inchiesta coordinata dalla Mobile di Catanzaro gli investigatori attendono ulteriori risposte dalle analisi del materiale sequestrato PC, smartphone e tablet Passiamo alla Pescara che ha definito altre due operazioni in entrata con l'arrivo dell'attaccante Luca Forte del terzino Riccardo Fiamozzi entrambi svincolati dal Varese con Cristian Galano il Pescara ha trovato l'intesa resta da definire quella con il Bari cui Galano è legato fino a giugno 2016 il servizio il Pescara suda nella terza parte del ritiro stavolta a Palena ma la società è attivissima sul mercato e le novità non mancano è praticamente fatta per Luca Forte e Riccardo Fiamozzi due affaroni per il presidente Sebastiani perché dopo i problemi societari del Varese i due calciatori si sono trovati svincolati e il Delfino non ha dovuto tirare fuori un euro per portarli in rival adriatico sosterrà solo gli oneri dei due ingaggi Luca Forte classe 94 è un attaccante può adeguarsi sia al 4-3-3 sia ad un attacco classico a due il giocatore Sanchi con un suo gol anche l'esonero dell'ex tecnico Baroni nella gara di Varese della penultima giornata dello scorso campionato facendo così un favore al suo nuovo tecnico Massimo Oddo Fiamozzi classe 93 è un terzino che dà il suo meglio in fase di spinta giocatore di grande potenza e fisicità intanto prosegue il tira e molla con il Bari per Cristian Galano l'accordo con il giocatore c'è triennale da 200.000 euro a stagione la società pugliese però continua a chiedere poco meno di un milione per il cartellino il Pescara offre 500.000 euro l'affare però si può chiudere e le parti sono destinate ad avvicinarsi si continuano a seguire anche le piste Mancoso e Falcinelli intanto da ieri sono ufficiali le acquisizioni in prestito con diritto di riscatto e contro di riscatto di Valerio Verre dall'Udinese e di Alessandro Crescenzi dalla Roma i due sono già al lavoro con i compagni a Palena peraltro l'arrivo di Fiammozzi e i recenti ritorni di Crescenzi e Zampano creano abbondanza nel settore degli esterni di difesa così si torna a parlare di una cessione di Andrea Rossi che di estimatori ne ha parecchi e potrebbe fare comodo al ripescato Brescia ma anche a Lentella destinata a prendere il posto del Catania dopo il processo sportivo negli ultimi giorni si registra un ritorno di fiamma dell'Empoli per Ledian Memushai il Pescara lo lascerà andare solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile intanto per il ritiro di Palena oltre agli infortunati Aresti e Ciosic non sono stati convocati quei giocatori che devono cercare sistemazioni altrove i terzini Grillo e Scrugli l'attaccante Barbuti i centrocampisti Nilsen e Milicevic e il centrale Pesoli gli ultimi due sono entrati nel mirino dell'Aquila L'Aquila Rugby presenta la nuova stagione in cui si annuncia una mini rivoluzione dal punto di vista tecnico nuovi giocatori nuovi tecnici e campagne abbonamenti per celebrare gli 80 anni del sodalizio Nero Verde il servizio mini rivoluzione all'Aquila Rugby ai nastri di partenza di una stagione in cui il sodalizio Nero Verde spegnerà 80 candeline nuovi tecnici mix di giovani giocatori ed elementi di esperienza e inoltre una campagna abbonamenti che coinvolgerà non solo gli appassionati della palla ovale ma anche l'intero territorio per la stagione 2015-2016 infatti l'Aquila Rugby Club offre ai tifosi agli appassionati non un semplice abbonamento ma un vero e proprio servizio la carta abbonamento si tratta di una card che è d'accesso a sconti in diversi esercizi commerciali convenzionati della città con la carta abbonamento il club vuol consentire ai propri abbonati di trarre anche vantaggi economici permettendo al tempo stesso di assistere a tutte le nuove partite interne del massimo campionato italiano di rugby oltre che alle due gare del trofeo d'eccellenza in questo modo l'abbonato può in breve tempo ammortizzare il costo della card abbiamo pensato a una campagna di abbonamenti che definiamo tanta voglia di rugby che ha due significati uno diciamo importante perché è dal punto di vista regionale che si compie 80 anni di attività di rugby in Abruzzo e la novità importante è che con quell'abbonamento si può accedere sia ai distinti che alle tribune in maniera indistinta sarà inoltre protagonista di questa stagione per il prossimo ottobre il progetto L'Aquila Rinasce le Maglie Bellezza che lo scorso anno hanno visto gli atleti neroverdi scendere in campo con i monumenti e simboli della città sulle maglie il successo dell'iniziativa ha spinto l'Aquila Rugby Club a confermare il progetto anche per la prossima stagione è tutto per questa prima edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna questa sera puntuale alle 19 grazie per l'attenzione e buon proseguimento per la prossima stagione per la prossima stagione per la prossima stagione